Io non ne posso... Va bene, se devi insistere, se devi insistere, dai, la facciamo, dai, facciamo... Buonasera a tutti, io mi presento, sono un mentalista... Prendono l'iniziativa così... Adesso facciamo un pezzo... Cos'è lei? Un mentalista... Un mentalista, stasera è un mentalista, lui cambia di volta in volta... Cos'è? No, non è cambia di volta in volta, non facciamo sempre polemiche... No, no, assolutamente, breve... Lei vuole fare il mentalista? Non è che voglio fare, adesso io... Lei vede che cosa c'è nella mente delle persone... Giusto, allora guarda, si concentri su questo... Mi dica che c'è lì dentro, perché io sono anni che... Ci hanno già provato i migliori luminari, niente... Non vedono niente... Guardi, me la godo da qua, me la godo da qua, voglio proprio vedere, prego... Vuole fare il mentalista? Facci il mentalista, forza... Dicevo, buonasera a tutti, sono un mentalista e quest'oggi eseguiremo un pezzo di mentalismo... Eh... Allora, voi vi lasciate abbandonarvi al flusso dei pensieri... Lo capite l'italiano sì o no? Eh, se lo parla sì, se lo parla sì... Se comincia a parlare... Allora, è anche una bella esperienza per voi... Sì... Tranquillo... Va bene? Io comincio a captare... Ah, sta captando? Per esempio, io adesso sto già cominciando a captare... Ma lei capta così? Per esempio, a te non te ne frega niente, ma già l'avevo captato... Non l'avevo captato... No, no, buono... Esatto, esatto... Esatto, alleggeriamo la tensione... Alleggeriamo la tensione... Alleggeriamo la tensione... Siamo tranquilli, vai, vai... Alleggeriamo la tensione... Con la signorina ci siamo captati... Sto scherzando, eh... Per alleggerire la tensione che talvolta è spesso tesa... Va bene? Ci siamo, ci siamo... Allora, a un certo punto cosa succede? Io indico una persona... Per esempio, tu... La persona indicata si alza... Mi guarda negli occhi... Continuo il flusso dei pensieri... Schiocco le dita... E indovino il pensiero della persona... Che va nel momento in cui ho scocato... Non prima, non dopo... Ci siamo capiti? Non prima, non... Va bene... Allora, per esempio, ci siamo? Pronti? Mi fate un'atmosfera di tensione? Tre, due, uno, via... Lasciatevi andare al flusso dei pensieri... Sta captando con la mano lana? Io sto cominciando a captare... Tu! Tu, esatto... Non tu, non tu... Tu, tu... Esatto, non tu... Tu, tu... Sì, tu, tu... Me l'ha fatto perdere, aspetta... Però, ragazzi, abbassi... Non tu, non... Tu... Che riri, che riri... Tu, tu... Va bene... Scusate, sarò più... Sarò più chiaro, scusami... Non si capisce bene... Allora, tre, due, uno... Dai, tre, due... Allora... Abbandonatevi al flusso dei pensieri... Ci abbandoniamo... Allora, io comincio a captare... Esatto... Ce l'ho... Allora, tu, poltrona rossa, capello rosso... Tu, ecco... Alzati in piedi... Abbandonati al flusso dei pensieri... Magari... Magari non l'elefante rosa che è un po' scontato... Non l'elefante rosa... Esatto... Guardami, continua... Pensa a quello che vuoi... Magari non l'elefante rosa, quello che vuoi... Vai, pensa a quello che vuoi... Vai, musicisti, mi raccomando, accompagnatevi... Accompagnatevi... Sì, va bene... Ci siamo... Guarda, non solo me... Guarda anche Pino... Guarda anche Pino... Non solo me... Ok, ci siamo... Guardami, guardami... Mi concentro, mi concentro... Vai... Non l'elefante rosa... Non l'elefante rosa... Incompetente a chi? Non l'hai detto, ma l'hai pensato... No, io non l'ho detto... Non l'hai detto, ma l'hai pensato... Io capito, non sono mica scemo... È vero... È vero... È vero... Grazie mille... Grazie, grazie!